Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news in cui come al solito voglio riportarvi le ultime novità nell'universo di Destiny e questa settimana purtroppo non c'è tantissimo da dire perché comunque siamo addirittura d'arrivo con la fine dell'anno e questo sarà l'ultimo weekly update. Bungie ha detto che riprenderà poi il 9 gennaio quindi fino ad allora dubito che avremo altre news. E colgo anche l'occasione per dirvi anche che in questi giorni sono stato abbastanza assente, ho 200 cose da fare, però stasera c'è l'evento di Destiny a Milano, ve ne ho già parlate con un video sul canale e naturalmente sarò ben felice di vedervi tutti lì, mentre nei giorni successivi per questo fine settimana e quindi inizierò a portare anche qualche video dedicato all'evento l'Aurora che alla fine mi manca ancora da trattare, anche se già visto che per le ricerche state andando un po' tutti a recuperare quelle dell'anno scorso perché sono praticamente tutte quelle attuali se non che c'è qualcuna nuova che comunque vi mostrerò insieme ai trionfi e praticamente ragazzi i soliti contenuti. Comunque parliamo dell'unica vera news che ho da riportarvi, settimana prossima tornerà lo standardo di ferro, durerà dal 24 al 31, come sempre inizia le 18 italiane e termina le 18 italiane e sarà possibile ottenere la versione 2.0 del set Tributo del Ferro, quindi sostanzialmente stessa armatura di sempre ma aggiornata la versione più recente. Inoltre ci saranno ben 4 taglie di armamento di punta, quindi con cui si potrà raggiungere il 970 e ci sarà come al solito un'impresa da poter completare prima di poter convertire i pegni dello standardo in engrammi aggiuntivi direttamente da Saladin. L'impegno è sostanzialmente la stessa di sempre e i progressi verranno conteggiati anche quanto non direttamente a un determinato step. Comunque rimarrà tutto abbastanza invariato, sempre il solito standardo, sempre le solite meccaniche e l'unico punto che mi ha fatto un pochino sorridere è che era previsto originariamente un nuovo arco per questo standardo ma che a quanto pare arriverà nella prossima stagione. E dico che mi fa sorridere perché ci ho messo un po' a realizzare che parlasse effettivamente di un'arma, perché mi fa davvero specie che non riescano a portare neanche un'arma nuova in questo standardo. Però dettagli, rimpiango davvero quando quantomeno ogni anno, se non addirittura anche con più frequenza, arrivavano dei set di armi nuove e su questo punto continuerò a lamentarmene. Non esiste che in tutto questo tempo non vengano introdotte nuove armi, addirittura l'unica prevista non verrà introdotta neanche a questo giro. Ma che ci vogliamo fare? Per il resto ragazzi non ci sono altre novità, l'evento aurore è attualmente in corso, la stagione dell'alba continuerà con la roadmap preannunciata e che ho già analizzato sempre sul canale e penso che per le prossime grosse novità dovremo comunque attendere gennaio, quando arriveranno le prime quest esotiche, quelle di questa stagione naturalmente intendo, e quando diciamo sarà passato il periodo festivo. Per il momento pensate a godervi le vostre festività. Per quanto riguarda queste news è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, spero siano stati di vostro interesse e vostro gradimento e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!